Siamo qui con Mustafà Toccai del team Asselle e con il suo partner giocava molto bello 7 club. Mustafà, scelta l'auctione. Grazie. Ho aperto un club. La mia lefta è l'art, Antonio è la doppia, che mostra 4 o 5 spade, non 6. La mia righte è 2 diamanti, che è un art. La mia righte è la mia giusta, che mostrava un bel giro, ma non per spade. La mia lefta è 2 diamanti, che mostrava un minimo. La mia righte è la mia giusta, che mostrava un minimo. Il punto di vista di Antonio è la doppia, che significa che il partner è in un game forse. La mia righte è passata la giusta, e ho fatto una buona bida, che ho fatto una buona bida per i club. Ciò è anche 3 club, ma per i club, per noi, è un'esplice solido. Quindi, Antonio è giusta per il diamanti, ho giusta per il art, il cubito, Antonio è giusta per il spade. E ho fatto un pass, ho giusta per il 5 art, che mostrava il primo round cubito in art. Quindi, Antonio è giusta per il mio opinione, perché in questo giusta ho visto che ho 7 club solidi e il king di diamanti. Ho giusta per il 7 club con 2 piccoli. E ho fatto un'esplice, che mi credo. E ho fatto un'esplice, che ho fatto un'esplice. che mi credo. E ho fatto un'esplice. E ho fatto un'esplice. E ho fatto un'esplice. E ho fatto un'esplice.